Buonasera, una volta era oro, questo è il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione in cui parliamo di olio extravergine d'oliva, questa è stata un'annata disastrosa, tra poco entreremo nel merito dei numeri, c'è stato un crollo della produzione che è unito all'aumento dei costi, sta mettendo in gravissima difficoltà un comparto che per la Puglia è estremamente importante, un comparto che potrebbe fare anche di più, anzi che potrebbe fare sicuramente molto di più, ma che quest'anno viene messo a dura prova. Noi oggi cercheremo di analizzare la situazione, capire che cosa è successo quest'anno, che cosa è dovuto questo crollo, ma soprattutto che cosa si può fare per ripartire, perché bisogna ripartire, l'olio extravergine d'oliva rappresenta una ricchezza per il territorio pugliese, siamo tra i principali, anzi forse sicuramente il più importante produttore in Italia, tra i più importanti in Europa, non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di valorizzare questa nostra ricchezza, la ricchezza della nostra terra. E allora qui, com'è questa sera, ci sono l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il direttore del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, Nicola Ruggero, presidente di Olivetti d'Italia e Onofrio Giuliani, che è presidente di Puglia Federiciana, distretto agroalimentare di qualità. E collegato invece abbiamo il professor Angelo Frascarelli, che è presidente di Ismea, che è uno dei più grandi istituti, più importanti istituti, che si occupa proprio di misurare l'agroalimentare, le produzioni agricole italiane. Allora professore, io partirei proprio da lei, per avere un quadro, un quadro generale italiano e poi se può aiutarci anche un quadro pugliese. E' proprio così? Quest'anno c'è stato un crollo, come dicevo in presentazione? Un crollo importante nel 2022 perché si sono sommate due fattori diciamo pesanti. Il primo è l'anno di scarica che normalmente conosciamo, anche se si può attenuare con un'adeguata tecnica culturale, ma poi ci si aggiunge alla siccità. E questo ha colpito tutta l'Italia, però in particolare la Puglia perché mentre in Italia abbiamo una riduzione del 37%, in Puglia come Ismea abbiamo stimato una riduzione della produzione del 52%. Quindi indubbiamente il calo c'è stato in tutta Italia, ma ha colpito più severamente la Puglia. Proprio per questo effetto, questa tempesta perfetta, questo effetto combinato di scarica e siccità. Ecco, lei se lo spiega solo per questo o c'è anche qualcuno che ha rinunciato a produrre? Beh diciamo che se questo dato che vi ho dato è un dato congiunturale, cioè che riguarda il 2022, dobbiamo però tener conto di un dato strutturale, che è quello che ci preoccupa di più. Il dato strutturale è che noi perdiamo produzione ormai da 20 anni, noi non dobbiamo dimenticare che nel 20 anni fa avevamo più o meno la stessa produzione della Spagna, oggi l'Italia mediamente, adesso non guardiamo il 2022 che è un anno particolare, ma mediamente produciamo 300 milioni, 300 mila tonnellate di olio di oliva, quando invece la Spagna, noi siamo diminuiti da 600 mila a 300 mila, la Spagna da 600 mila è andato a 1 milione e 400 mila, quindi c'è un effetto strutturale di tendenza che... È una scelta politica, professore, è una scelta politica oppure che cos'altro influisce in questo? Cioè perché registriamo questa riduzione, peraltro in un paese che ne consuma di olio, tant'è che non riusciamo a soddisfare neanche il fabbisogno del nostro territorio? Le scelte politiche in questo paese sono state sempre abbastanza favorevoli all'olivicoltura, teniamo conto che anche nell'ultima PAC, quella che partirà dal primo gennaio 2023 fino al 2027, ha confermato, soprattutto nella conferenza Stato-Regione a livello nazionale, di destinare all'olivicoltura dei sostegni importanti. Nella nuova PAC c'è un pagamento nuovo che si chiamano ecoschemi, bene, ben due ecoschemi, anzi forse tre ecoschemi, l'ecoschema 2, l'ecoschema 3, l'ecoschema 5, sono proprio destinati prioritariamente all'olivicoltura. Quindi diciamo che la PAC un po' ha fatto il suo compito, forse quello che nel passato ci si è seduti troppo sulla PAC, perché invece bisognava lavorare di più sull'innovazione e sul mercato. Ecco, io da questo punto di vista dico che se abbiamo perso tanto tempo negli ultimi 30 anni, forse negli ultimi 10 anni qualcosa di nuovo si comincia a vedere. E da questo punto di vista, certamente la Xylella non ci ha aiutato, ma non è solo questo il punto, noi dobbiamo investire in innovazione e mercato, quello che ci insegnano altri settori di successo del nostro agroalimentare. Ci arriviamo, ci arriviamo alle soluzioni, professore. Intanto però volevo chiedere all'assessore Pentassulia se è preoccupato di questi dati relativi alla produzione di quest'anno. Preoccupato come assessore perché è un sistema economico produttivo molto importante. Condivido anche le stime che ha fatto l'assessorato, vanno in quella direzione sentendo gli operatori. Volevo solo affermare quella che è la posizione che la Puglia ha avuto rispetto a un atteggiamento nazionale che non vedeva lo schema olivicolo nella programmazione. È stata una battaglia tutta pugliese e non perché io me ne debba freggiare, ma perché devo coordinare le azioni e fare della programmazione comunitaria, la PAC e quindi lo schema olivicolo e l'ecoschema olivicolo con il tema dei monumentali. È un problema che abbiamo posto come Puglia in maniera molto pesante e dura. È stato recuperato, è stato fatto un lavoro e quindi partiamo da settare i dati rispetto all'esistente con quello che è il percorso storico che si è fatto perché bisogna fare anche un attimo di sintesi per gli errori che sono stati commessi. Io guardo meno alla Spagna perché può essere un dato indicativo, ma lì parliamo di sistemi intensivi che dopo 8-10 anni vengono cambiati, quindi un sistema diverso dal sistema di produzione pugliese che sta in mano agli imprenditori e che se vuole essere intensivo in quelle condizioni e a quelle condizioni date, oggi noi abbiamo un tema diverso che è Metà Puglia, toccata dalla Xilella per una serie di cose che non sto qui a richiamare ma che stiamo programmando in maniera forte e coesa, deve ritornare nell'ambito della diversificazione a trovare il sistema olivicolo insieme a quello della diversificazione che è in capo però agli imprenditori, cioè noi possiamo fare sintesi che vogliamo mettere a posto la parte normativa e quella della strumentazione che incentiva, ma dobbiamo poi rispettare quella che è l'attività di un imprenditore agricolo che sceglie, con il rischio di impresa che è molto più alto per il settore agricolo perché la siccita, le bombe d'acqua, quindi i cambiamenti climatici, il tema delle assicurazioni e quindi della 102 e delle colture assicurabili, sicuramente quanto e come impatta per il sistema agricolo non impatta con gli altri sistemi. Però ecco, è un tema che stiamo sviluppando perché il dato è sicuramente preoccupante, è molto attenzionato e va sviscerato in tutte le sue articolazioni perché il tema dell'olivicoltura è un tema storico importante ma abbiamo, io sono molto fiducioso perché proprio per l'esperienza, la qualità di ciò che abbiamo prodotto negli anni, seppur con questo calo, noi secondo me abbiamo una prospettiva molto più seria e anche più importante da proporre. I imprenditori sono preoccupati? No, gli imprenditori partono dal presupposto da cui concludeva l'assessore, è un settore che dà grandi soddisfazioni, è uno dei pochi settori in cui in Puglia siamo riconosciuti perché se uno immagina la Puglia con tutto e abbiamo un'eccellenza per tutto, pensa all'olivicoltura. Il mercato vuole, dopo gli sforzi fatti, nessuno me ne voglia, in autonomia delle imprese, riconosce oggi questa qualità. Quello che ci manca è una visione d'insieme, quindi gli imprenditori sono preoccupati per le circostanze che ci hanno visti abbastanza soli in una battaglia molto più complessa, come diceva l'assessore, le gelate, i costi energetici, noi siamo vere aziende energivore, solo che abbiamo pensato che l'azienda energivore fosse quella della ceramica, l'azienda l'olivicola non è energivore, perché noi consumiamo il 60% di fatturato quest'anno per i costi di energia e di carburante. Vediamo il mercato che c'è, ma abbiamo una serie di opportunità mancate, perché la Puglia, a parte l'axilella, che è un tema importante che credo merita tutto approfondimento, vede due livelli diversi dell'olivicoltura, l'errore politico, storico, dietro la PAC e quant'altro è stato metto tutti insieme. Per noi l'olivicoltura è storia, benissimo, è il nostro grande valore, ma l'olivicoltura è impresa, perché tu devi confrontare con un sistema che deve stare sul mercato, se no siamo fuori, e le aziende che possono stare sul mercato di tutte quelle Puglia ci sono appena il 15%. Noi buttiamo le stesse risorse, usiamo le stesse politiche, e forse anche generosa, per l'azienda che ha l'autoconsumo e per l'azienda di penitoreale. Su questa invece dicotomia, secondo noi, va affrontato l'impegno futuro. Ci sono imprese che sono orientate al mercato, quelle per l'ambiente, in Puglia e in Italia abbiamo fatto tutto un melting pot, e oggi il dato vero, non c'entra niente la calamità di quest'anno, è che c'è abbandono in tutta Italia, ed è iniziato l'abbandono in Puglia. A parte le zone di Xilella abbiamo nella provincia di Bari, nella BAT, ari interi di abbandono, perché è un'azienda che ha bisogno di investimenti importanti a difenza di altro, non c'è grande meccanizzazione nel sistema, è un'azienda, quella di Vicola, che impegna a manodopera. Il percentuale di riduzione, quello che chiedevo prima al professor Frascarelli. È importante. E dipende anche da questo, c'è qualcuno che sta lasciando, che sta mollando. Ma assolutamente sì, che è un peccato, perché è un settore importantissimo, dove il mercato ci riconosce un ruolo, la Puglia nell'olio, nel mondo, è riconosciuta. Oggi le aziende che si sono affacciate sul mercato stanno avendo belle soddisfazioni, che sono i dati positivi di questo settore. Quello che ci manca è una quantità critica per ostacolare in maniera diversa, sono d'accordo con l'assessore, il modello spagnolo. Cioè noi dobbiamo competere se abbiamo quantità, ma se non abbiamo quantità, andiamo a fare le fiere in giro, andiamo per le manifestazioni a fare le fiere, bancarelle, ma i dati che portano valore, occupazione, investimenti, li perdiamo. Il dato sull'investimento in agricoltura negli ultimi anni in Puglia, che è crollato, credo che debba farci difetti a più di qualunque cosa. Noi siamo passati quasi alla metà degli investimenti per l'azienda che dice, beh vabbè, non troverai, non ho la formazione indietro, non ho l'assistenza, non ho i consorzi che mi danno l'acqua, non ho la rete, che faccio? Ho paura. Sentiremo tra poco alcuni suoi colleghi, sono diversi temi che vengono sollevati. Nardone, diceva prima il professor Frascarelli, probabilmente ci si è seduti un po' sulla PAC, vedevo che lei annuiva. Sì, effettivamente l'analisi del professor Frascarelli è condivisibile, sono i numeri. Credo che la PAC, la politica agricola comune, abbia in qualche modo, sia un grandissimo beneficio per le nostre aziende, ma sia anche una forma di, virgolette, droga del mercato, perché aumenta i valori dei fondi lustici in maniera, diciamo così, non banale e evidentemente conforma anche le scelte degli imprenditori, tra cui quella di adagiarsi perché può esserci una rete di protezione offerta appunto dal pagamento unico, accoppiato, disaccoppiato, sono tecnicismi questi. Noi abbiamo immaginato, sulla scorta di quello che diceva l'assessore, dell'indirizzo che la politica ha dato all'assessorato, al Dipartimento, nel nuovo programma, diciamo così, nella nuova programmazione europea di andare nella direzione che appunto Frascarelli individuava di cui si è parlato, cioè noi partiamo da un dato rispetto al quale noi dobbiamo recuperare competitività e quindi produrre di più. In vent'anni da primi produttori mondiali l'Italia produce metà di quanto produce l'assessore. Ma come si fa se gli olivicoltori lasciano i terreni, le aziende chiudono, i costi aumentano e poi ci sono i fattori climatici, come si può riuscire a dare questa spinta? Infatti per prendere delle scelte bisogna fare delle analisi, bisogna considerare bene i numeri. Noi abbiamo un settore che è il primo settore per il numero di giornate lavorative in agricoltura, perché effettivamente l'olivicoltura tra potature e raccolta ha un'esigenza di circa 10 milioni di giornate lavorative anno, insomma, una caterva. Andiamo di fronte a stagioni in cui i braccianti diminuiranno, cioè ci sarà sempre più difficoltà a trovare del personale e il costo della manodopera salirà ulteriormente, quindi c'è bisogno di meccanizzazione. Le scariche e le annate di carica e scarica possono essere curate, gestite, come diceva giustamente Frascarelli, con adeguate operazioni agronomiche, che se meccanizzate si possono fare più adeguatamente e più facilmente. Quindi c'è bisogno comunque di ingrandimento della maglia aziendale, di intensificazione, non alla spagnola ma alla pugliese, perché evidentemente dipende molto dalla disponibilità idrica e quindi l'acqua è un fattore determinante per poter fare competitività. Noi abbiamo pensato di creare un piano olivicolo, vale a dire di creare delle misure ad hoc per gli olivicoltori, così come si fa nel vino, cioè l'OCM per la ristrutturazione dei vigneti, noi abbiamo pensato di costruire nel prossimo programma una parte ad hoc per la ristrutturazione degli oliveti o per la costituzione degli oliveti e che possa essere unita solo in questo caso a una meccanizzazione più spinta, specie se in cooperativa, perché l'idea poi è portare tutto in OP, dentro il meccanismo e dentro il sistema organizzativo delle organizzazioni produttori, quindi la cooperazione, ma fatta bene e non sulla carta. Che è un problema Giuliani, mettere insieme, penso che sia uno dei... voi ci state provando, se la vostra zona non ci l'ignora. I dati sono in assoluta controtendenza, devo dire leggendo questi dati che peraltro non mi meravigliano affatto, a mio avviso uno dei dati più preoccupanti è quello dell'età media degli addetti ai lavori, che è di 59 anni. Ora, 59 anni io immagino non soltanto riferito agli imprenditori agricoli, ma riferito anche a coloro che prestano opera nella pratica olivicola. È un dato preoccupantissimo perché non ritengo ci siano da un punto di vista strettamente economistico dei margini di controtendenza, perché questi sono dati che tendono a crescere piuttosto che a diminuire. E quindi qui abbiamo un duplice problema, è stato affrontato, è stato accennato. Io vorrei però fare un piccolo passo indietro per ritornare sull'argomento della diversificazione delle produzioni tra Italia e Spagna. Io credo che l'Italia, o meglio l'olivicoltura italiana, abbia subito il forte trauma del disaccoppiamento, chiamiamolo così, lo dico senza infingimenti, lo dico con molta tranquillità e serenità, nel senso che le cifre che la statistica ci trasferisce sono cifre di un improvviso calo delle produzioni dall'oggi al domani che inspiegabilmente ci portano a essere quasi il 50%, un po' di più della Spagna, con la quale prima condividevamo il primato produttivo. Per me una delle concause potrebbe essere il cambiamento dell'aiuto, della modalità di somministrazione dell'aiuto comunitario da disaccoppiato ad accoppiato. Potrebbe essere. Non voglio essere eccessivamente malizioso in questo, però il dato è questo. Questo significa due cose. Significa che prima probabilmente si produceva molto meno di quello che si dichiarava, ma che oggi il calo non è così drastico. Non so se sono stato chiaro. Perché se prima si produceva di meno vuol dire che il reale... Lei ritiene che questa produzione attuale sia... Non sia in eccesso di calo. Non sia eccessivamente calata. Sia più realistica rispetto a quella precedente. Quindi è un calo virtuale, insomma, è un calo formale. È un calo, diciamo, formale, in parte formale, in parte virtuale, che ci riporta a quelle che sono le nostre dimensioni più o meno reali. Ora, è chiaro che si può migliorare e si deve, e si deve migliorare, perché un altro dei punti che è stato anche affrontato sono le reali capacità produttive dei vari areali, perché noi abbiamo, qui leggo queste bellissime statistiche che mi sono state fornite, abbiamo una parte, un pezzo della nostra Puglia, che è la BAT, che ha delle capacità produttive di assoluto rispetto, di assoluto riguardo, pur in presenza di problemi strutturali non indifferenti, che sono quelli della manodopera e che sono anche quelli delle risorse idriche. No, io le aggiungo un'altra, quella della commercializzazione. Ci arriviamo. Però ci arriviamo tra poco. Facciamo un attimo di pausa, le faccio vedere un servizio e poi ne riparliamo. Grazie, grazie. A tra poco. È andata abbastanza bene, ci aspettavamo una campagna un pochettino più difficile di quella che realmente si è dimostrata, perché con le avversità climatiche che abbiamo avuto quest'anno, mancanza d'acqua, quindi molta siccità, il prodotto a inizio stagione si presentava poco e di bassa qualità, cosa che poi invece si è rivelato soltanto per la prima parte della campagna e quindi le prime produzioni raccolte. C'è stato anche un attacco di mosca che ha pregiudicato comunque la qualità delle olive. Poi il prodotto è nettamente migliorato, un po' per il clima che è cambiato e un po' per la raccolta di prodotto più curato e più sano. La Puglia è arrivata in una fase diciamo decisionale importante dove le aziende o decidono di cambiare e quindi investire su nuovi progetti e nuove opportunità oppure diciamo che grossi miglioramenti nel settore non ne potremmo avere. Nel senso che dovremmo lavorare tutti quanti per un fine comune con naturalmente una gestione un pochettino più importante, cioè spingere tutti nella stessa direzione e ci vorrebbe anche un capogruppo, un qualcuno che porti diciamo tutti a pensare alla stessa maniera e quindi lavorare per uno scopo e un fine unico. Una sorta di consorzio? Una sorta di consorzio esatto. Dovrebbero partecipare tutti gli addetti al settore, dal piccolo agricoltore fino all'industria di trasformazione al confezionatore più grande, però sotto un solo marchio, il marchio dell'olio pugliese che potrebbe diciamo con tutta la quantità e la qualità di prodotto che viene prodotto in Puglia potrebbe sicuramente portarlo a livello internazionale ad essere conosciuto e apprezzato e anche valutato. Ecco Giuliani, quello a cui accennavo prima della pubblicità, il problema è che ci sono delle aziende che producono, questa azienda è nella batta a cui le faceva riferimento, però il problema è che hanno bisogno di qualcuno che gli aiuti a piazzare il prodotto, a vendere, evidentemente da soli non ce la si fa. Posso esibirmi in una piccola provocazione, piccolissima. Avete mai pensato a tracciare il viaggio di una cisterna di olio? Ecco sarebbe interessante tracciare il viaggio di una, facciamo un'idea giornalistica, il viaggio di una cisterna, entra in un frantoio, carica l'olio, dove va questa cisterna? Qua leggo che noi pugliesi consumiamo 200 mila tonnellate di olio, extravergine? No, di olio, dico. Quindi consumiamo più di quanto produciamo? Allora, noi dobbiamo prima di tutto definire, dobbiamo prima di tutto definire... Pardone non è d'accordo? No, no, no. No? Lascio finire. No, dobbiamo definire i confini di quello che stiamo dicendo, perché immaginare che extravergine sia un olio che su un banco di un supermercato, di un megamarket o di quello che vogliamo viene acquistato dalla massaia e vada a fare massa critica per comporre le 200 mila tonnellate è una follia assoluta. Allora, noi dobbiamo classificare il consumo esattamente come classifichiamo la produzione. Perché se noi andiamo a tracciare la famosa cisterna, la famosa cisterna ci porterà in Toscana, ci porterà nelle Marche, ci porterà in Lombardia. Perché? Perché il cuore della commercializzazione complessiva è lì, dalle grandi... Quindi aveva ragione il produttore nel dire abbiamo bisogno di un brand unico? Assolutamente sì. Io, da presidente di un consorzio, Puglia Federiciana, che si propone di produrre investimenti sul territorio al fine di aumentare la competitività complessiva del territorio, ho un progetto di sistema del consorzio stesso per la creazione di blockchain, per la creazione di mercati virtuali, per la creazione di e-market, addirittura per la creazione di un percorso di metaverso che possa portare il potenziale consumatore nel cuore della Puglia. E i miei suoi colleghi cosa le dicono? Beh, ci sono quelli che valutano entusiasticamente questo progetto e ci sono quelli che fanno resistenze, perché? Ma non resistenze, ma resistenze di approccio culturale, ecco, diciamo così. Io, Assessore, prima quando l'imprenditore parlava appunto di questo fatto di creare il consorzio, di creare un brand unico, ho visto la sua espressione un po' scettica. Voi ci avete provato a mettere insieme gli imprenditori, i produttori? Guardi, io sto provando a mettere insieme il sistema economico e produttivo. Qui c'è un percorso culturale che non ha utilizzato appieno le Opie, le organizzazioni di produttori. Qui c'è un problema culturale che lo stare insieme non è proprio, è molto declamato per titolo, ma non applicato. Noi possiamo avere il brand unico Puglia, perché il brand Puglia vola. Io diciamo che in questi anni ho fatto il consigliere So gli effetti del Vendola 1, Vendola 2, Emiliano 1. Allora, vi so dire, posso portare numeri seri di com'è cambiato l'approccio verso la Puglia. Faccio un esempio, l'olio è l'ambasciatore di Puglia. L'olivo sta nello stemma della regione Puglia, quindi è emblematica questa cosa. Che lavoro ha fatto dai patti agricoli in poi il primitivo? Il vino. Diciamo il vino. Partivano le cisterne, oggi partono le bottiglie. Qual è l'avanzamento culturale che facciamo? Ho sentito parlare di Marche. Questo è il moderno che avanza. Allora mettiamoci insieme, abbattiamo i costi di produzione, perché se quest'anno le aziende hanno lavorato, e io sono stato una voce, come al solito, unica nel deserto di chi... Una pacca sulla spalla. Io sono uno vero. Io ho preso frontalmente l'ex ministro, mi auguro che con il nuovo governo, diciamo solo ieri abbiamo potuto salutare il neoministro, capisco che il governo sta parlando della legge di bilancio dello Stato, come noi ci stiamo approcciando al bilancio della Puglia, ne parleremo a gennaio. Come si declina la sovranità alimentare? Il titolo non mi interessa, mi interessano le azioni. Perché quando ho detto che nell'ultimo anno hanno pagato i più deboli, hanno pagato esattamente coloro che stanno qui e tutte le famiglie, perché si è scaricato su di loro la speculazione che c'è stata, dai fitofarmaci all'Enel. Parliamo di energia elettrica, così tocchiamo il portafoglio di tutti. Allora, se poi uno dice, ma il costo dell'acqua? Ma guardate, la Puglia non ha toccato nulla. In bilancio stiamo mettendo i soldi, abbiamo fatto i salti mortali per garantire quel gap tra quello che dice la norma, cioè fare il costo a tariffa, e quello che invece è il costo effettivo che stiamo pagando. Quest'anno gli imprenditori privati hanno chiuso i loro pozzi, perché emungevano acqua a un costo quadruplicato, perché questa è la verità, e hanno preso l'acqua dalla regione. Il tema vero che ci approcciamo a fare è il riuso delle acque depurate. Una velocizzazione che sto imprimendo con la regione ad Acquedotto Pugliese, e quindi all'utilizzazione, però attenzione, dove stanno i depuratori e l'acqua da depurare e da riutilizzare, scusate, abbiamo un consorzio da una parte, pochi che utilizzano l'acqua. Allora il percorso è culturale, perché la politica può mettere in campo la battaglia sull'ecoschema, la battaglia sulle OP. Vedere che abbiamo pochissime OP, pochissime OP, e un quinto è prodotto da questo, mentre noi abbiamo metà Puglia da ricostruire, metà Puglia che produce e non ha sostenibilità economica dal punto di vista aziendale. Perché guardi, sostenibilità aziendale, noi possiamo freggiarci di essere una delle regioni che sulla sostenibilità delle aziende, sull'attenzione al prodotto, io lancio la sfida a dire siamo competitivi. Ma la sostenibilità intesa economica, trattino aziendale, altrimenti le aziende correranno ai ripari, se non c'è il sistema, il cordone di questi progetti, noi, le OP, i consorsi, la cooperazione, i contratti di filiera, non solo ce li abbiamo in mente, ma li stiamo esplicitando. Certo, noi li aiutiamo a mettersi in campo, ma serve un'attività. Io non vorrei che fra qualche anno qualcuno chiami anche me, per il periodo pro tempore che farò l'assessore, a dire, come è successo in passato, che ogni territorio si faceva la sua cooperativa, magari a 5 km, a 10 km, parlo della mia zona che le ho vissute, quindi sono tutte fallite. Uno, perché i vertici erano tutti, diciamo, in pectore. Quindi, non dei produttori, attenzione, di un percorso culturale che avanza, cioè passiamo dalla qualità del prodotto a come facciamo sistema per piazzare il nostro prodotto. Bottiglie, ceramica, ci sono esperienze importanti, quindi quelle cisterne possono diventare, come nel vino, bottiglie o anfore o altro, che partono dalla Puglia, partendo da un percorso. E' quello che volevo causare. Benissimo, esattamente. Ma questo sta nella mission che, almeno io, ho trovato molta condivisione. Assessore, però le posso dire che ci sono delle aziende che lo fanno, ma anche quelle aziende vorrebbero un marchio unico, vorrebbero un brand unico. Lo vediamo tra poco. Intanto, però, siccome è accennato agli OP, noi siamo stati in un OP a Bitonto e loro però lamentano una questione che riguarda la regione Puglia. Io lo faccio ascoltare. Nello storico l'efficio cooperativo Cima di Bitonto si lavorano le ultime olive. Questi sono i macchinari che le trasformano. Qui c'è il prodotto finito e il confezionamento anche nell'ultimo nuovissimo packaging a ridotto impatto ambientale perché è più facile da smaltire. E' stata un'annata complicata. Diciamo che è stata una campagna veramente un po' drastica per la produzione, per la qualità discreta, quindi anzi buona, però per la quantità è stata una campagna molto scarsa. Siamo qui da 65 anni. Stiamo cercando e cercheremo sempre di valorizzare questa cooperativa perché ha il suo marchio Cima di Bitonto e quindi vendiamo tanto olio come Cima di Bitonto. Quindi dobbiamo continuare questa realtà e faremo di meglio. C'è bisogno di fare squadra. Noi apparteniamo a Unopia, a Soproli, quindi comprendiamo 16 cooperative e questa è la squadra che ci porta anche a dei successi. Quello che chiedono i produttori è smaltire la burocrazia per agevolare la crescita delle aziende. L'oleificio cooperativo Cima di Bitonto, per esempio nel 2016, ha avuto accesso alla misura 4.2 della legge regionale che finanzia il 50% dei costi di ristrutturazione esterna. Ma il decreto è arrivato solo qualche giorno fa. Cinque anni sono un'attesa interminabile per chi produce. Noi fino adesso abbiamo cercato di resistere. Noi dalla regione vogliamo veramente un segnale e poi, caso mai, se ci mettiamo tutti insieme a tutto il mondo agricolo sicuramente qualcosa di buono esce da sotto. Che dice Assessore? Loro lamentano la lentezza nelle risposte. Allora, facciamo chiarezza per chi ci ascolta. La 4.2 ha avuto, come tutte le misure, ricorsi che hanno bloccato le graduatorie. Io sono arrivato a fine novembre 2020. Abbiamo sbloccato a dicembre la 6.1, quella dei giovani, e a gennaio la 4.1. Si potevano finanziare 500 aziende. Siamo arrivati alla 1.600. Stiamo scorrendo fino a 2.200 per la 4.1. Per la 4.2 abbiamo triplicato il numero degli investimenti. Abbiamo fatto la decretazione. In queste ore Bruxelles ci sta rendendo omaggio e sta dicendo che l'anno scorso abbiamo speso tutto il 2.021 e tutto l'arretrato. Quest'anno faremo tutta la spesa 2022. Quindi saranno contenti chi ci rappresenta, a partire da me e dalla mia struttura, che è fatta di pochissime persone, che la spesa è stata fatta. E siamo il punto terminale. Se c'è una cosa che mi permetto di dire, che la prossima programmazione, tutti quegli ammennicoli che sono stati messi nei bandi, che sono stati disattisi e non letti bene, che si leggano bene, quando il bando, come sto facendo nella mia gestione, e qui c'è il capo dipartimento, il professor Nardone, mandiamo lo schema alla bozza una settimana prima, facciamo una riunione una settimana, lasciamo una settimana per tornare sull'argomento, quando il bando viene pubblicato, succede con la mia gestione, è condiviso, non dico all'unanimità, ma dalla stragrande maggioranza. Perché facciamo dei verbali, perché col senno di poi io non voglio sentire più nessuno che ci amolamenta. Stiamo facendo le cose per non avere ricorsi, e grazie a Dio in questi due anni abbiamo solo sbloccato. Vorrei ricordare che tutti i giovani che hanno fatto domanda a settembre, a gennaio saranno pagati e pagheremo tutto il primo insediamento, come tutte le strutture rurali. La cosa che mi appassiona, e lo farò da gennaio, prendo impegno qui, è di ufficializzare un incontro con chi ha quella voglia di fare, che sta nel ragionamento che facevamo prima. Allora, mettiamoci intorno a un tavolo, spogliamoci dalle vesti e dalla casacca di chi rappresentiamo. Noi siamo il modello Puglia. Quale modello propiniamo nell'ambito del marketing? Perché io nel bando e nella nuova programmazione ho aggiunto una cosa nuova, l'incoming. Cioè anziché andare voi a portarlo a Londra, venissero i buyer qua, perché quando andiamo alle fiere, i buyer, specie l'istituto col commercio estero, ci ha portato persone che venivano in vacanza. Io non ho bisogno della vacanza, ho bisogno di chi compra l'olio. Sapendo la differenza e provando a dire che te lo porto nel packaging di ultima generazione, perché quella è una novità, anche di sostenibilità ambientale, sarà, come diceva qualcuno, quello che sarà. Noi saremo fortificati dall'azione che nel momento in cui Metà Puglia si sta ricostruendo come patrimonio olivicolo, con tutto il problema che poi andremo a trattare con il governo, perché i decreti sono di quattro anni fa, i soldi sono arrivati dieci mesi fa e noi li abbiamo spesi, ma ci siamo portati avanti con il lavoro. Cioè, se chiamiamo i miei problemi per nome e cognome, ognuno di noi fa la sua parte. Se qualcuno pensa che io vado bene, sto vendendo, il mio dirimpettaio è bene che fallisca, fallisce la Puglia. Allora, ok, brand unico, chiamiamolo come vogliamo, però strutturiamoci, perché tutti quegli aiuti che le altre regioni prendono, e molti dei nostri imprenditori stanno nelle OP delle regioni limitrofe, addirittura dell'Emilia, per carità, scelta aziendale, io sono, diciamo, rispettoso della volontà, però lo scaricabarile, dire di altri, e non specificare, ecco, questo è un gioco... Non funziona più. Non funziona, non mi appartiene, perché ci auto-responsabilizziamo tutti in un processo di corresponsabilizzazione dove usciamo come sistema Puglia. A proposito del brand Puglia, tra poco sentiamo un'altra storia e poi voglio sentire anche cosa ne pensa il professor Frascarelli, dopo la pubblicità. L'azienda agricola De Carlo di Bitritto produce mediamente 5-6 mila quintali di olio l'anno. Quest'anno è andata a Maluccio, 3 mila quintali, a fronte dei 7 mila del 2021. È un marchio tra i pochi pugliesi conosciuti in tutta Italia e all'estero. Eppure per Francesco De Carlo, che gestisce l'azienda con sua sorella Marina, il cognato Arturo e naturalmente i genitori Saverio e Grazia, ci sarebbe bisogno di qualcosa in più per imporsi sul mercato. Per quanto è forte il potenziale dell'olio pugliese, sicuramente essere aiutati nella costruzione di un brand più grande, che potrebbe essere l'IGP Puglia, potrebbe essere un brand diciamo ben più ampio, con un respiro sia produttivo che di vendita più ampio, sicuramente diciamo in questi produttori pugliesi avrebbero bisogno di una mano che li aiuti a organizzarsi e a concertare quello che è la costruzione di un brand che possa essere conosciuto e riconosciuto dai clienti sia italiani che esteri. C'è un però? Per poter creare un brand riconosciuto e che abbia riscontro poi tra l'altro perché essere riconosciuto non vuol dire che venda, bisogna avere una grossa competenza e a mio avviso in Puglia bisognerebbe molto aumentare quella che è la cultura dell'olio a livello generale proprio partendo dalle scuole, dai ragazzini fino ad arrivare agli olivicoltori stessi che purtroppo spesso non sono in grado non hanno fatto corsi di assaggio tali che siano in grado appunto di distinguere un prodotto discreto da un buon prodotto da un prodotto eccellente che di fatto poi sul mercato riscontrano delle quotazioni diverse. Un aiuto in questo dovrebbe arrivare dalla Regione. In Toscana l'Università della Regione investe tanto in olivicoltura pur essendo un'industria marginale tutto sommato perlomeno a livello produttivo come i bottiglatori sono l'umber one ma a livello produttivo non è questa grande industria eppure la Regione Toscana la Camera di Commercio di Firenze investono tantissimo in sviluppo ricerca corsi di formazione cosa che purtroppo da noi è un po' carente o perlomeno è poco trasmessa perché a volte ci sono corsi che vanno anche deserti quindi bisogna capire bene se il problema sono i corsi che mancano o se le persone che non vanno ai corsi. però sicuramente io ritengo dal mio punto di vista credo che il problema di base sia culturale cioè una maggiore cultura del prodotto all'extravergine sicuramente aiuterebbe tutto il comparto a crescere. Presidente Radone diamo subito una risposta sono i corsi che non funzionano o sono gli olivicoltori che non partecipano ai corsi che organizzano? Un concorso di colpe mettiamola in questi termini no obiettivamente credo che il problema fondamentale che poneva l'invenitore è quello di di elevare la cultura dell'olio in generale nei consumatori è la sfida del mercato dell'olio cioè di portare l'olio verso diciamo così gli esiti che ha avuto il vino una differenza avete un ruolo importante ha un ruolo importante alla regione diciamo ancora una volta che certamente la parte pubblica ha la sua importanza ma il sistema è in toto che si muove noi non potremmo fare mai nulla se non c'è anche dietro la volontà degli imprenditori noi per quanto riguarda l'IGP o piuttosto che le DOP ci sono ma sono gli imprenditori che le vivono e le realizzano noi le risorse ce le mettiamo insomma da questo punto di vista non sempre vengono viste perché poi chiaramente non abbiamo politiche settoriali nella nuova programmazione avremo una politica solo per l'olio ma generalmente noi abbiamo fatto politiche di promozione dei brand pugliesi quindi delle varie DOP delle varie IGP del marchio stesso della regione Puglia di sicuro si deve lavorare moltissimo in quella direzione come si sta lavorando all'interno dei ristoranti ad esempio per favorire una competenza maggiore dell'olio delle diverse varietà la differenza che ci può essere tra una coratina un'ogliarola piuttosto una peranzana ecco queste sono le diciamo diciamo che dobbiamo essere i migliori venditori e comunicatori di noi stessi sostanzialmente Presidente Frascarelli intanto grazie per la pazienza ha ascoltato finora questi un po' di interventi e le chiedo ecco di un po' commentare quello che abbiamo detto finora ma soprattutto vorrei chiederle che cosa ne pensa lei di un brand Puglia come la vede secondo lei potrebbe essere la chiave di volta? tutto bisogna avere chiaro l'obiettivo che è creare valore e per creare valore bisogna guardare al re del mercato il re del mercato è il consumatore e il consumatore vuole prodotti da primo prezzo fino a prezzi alti quindi bisogna tener conto che la Puglia ha le potenzialità sia per servire i consumatori di primo prezzo e farci anche reddito sia per servire consumatori che pagano prezzi molto elevati ecco guardate che questo avviene in tutto l'agroalimentare voi pensate nel settore del vino noi abbiamo imprese che hanno successo nel settore del vino con vino a un euro al litro un euro al litro vi assicuro ma perché? perché magari stanno a Ravenna e fanno 300-400 quintali di uva per ettaro e poi abbiamo prezzi da 238 euro a bottiglia che abbiamo rilevato quindi c'è una differenziazione enorme ecco noi dobbiamo tener conto che la differenziazione è un valore noi allora dobbiamo puntare sicuramente su una concentrazione dell'offerta per il primo prezzo e poi dobbiamo puntare anche a tante nicchie perché guardate che anche in Puglia stanno nascendo imprenditori che sulla nicchia stanno facendo redditi importanti quindi noi dobbiamo servire sia il consumatore da primo prezzo ma sia il consumatore da altro prezzo il cliente dei ristoranti eccetera il brand serve o non serve per alcuni segmenti di mercato un brand è una macchina un veicolo che serve ma se non c'è un imprenditore che sa guidare la macchina anche il brand non pensate che risolve tutti i problemi certo quindi diciamo è un aspetto è un aspetto della questione però bisogna puntare anche su altro dal suo punto di vista certamente perché noi dobbiamo creare valore e la creazione di valore è il punto fondamentale creazione di valore per dare più reddito alle imprese per creare valore sono d'accordo con quello che è stato detto in Toscana come hanno fatto lei che ha un osservatorio speciale ecco la Toscana è un esempio interessante voi pensate che l'IGP Toscana sono 3000 tonnellate di olio 28 milioni di fatturato 9,3 euro al chilo terre di Bari sono più viene certificato più olio nelle terre di Bari che è l'IGP Toscana le terre di Bari è 4300 tonnellate però fa 20 milioni di euro e un prezzo di 4,6 dove sta la differenza beh innanzitutto la differenza sta in una riconoscibilità del territorio toscano sicuramente ma anche in una capacità delle imprese di saper veicolare quel prodotto ecco questa cosa però io non sarei così disfattista perché io sto frequento la Puglia e sto frequentando di imprenditori che hanno stanno nascendo stanno creando imprese importanti noi dobbiamo imitare la Toscana ma soprattutto la dobbiamo imitare nella sua capacità come imprese anche piccole di creare valore ecco questo io sono convinto che prima o poi ci riusciremo anche in Puglia soprattutto se si passa dalla logica dei sussidi alla logica della produttività sostenibilità e creazione di valore ecco queste tre parole io le vorrei sottolineare produrre di più in maniera più sostenibile e creazione di valore e la creazione di valore lo fa l'imprenditore in rapporto col consumatore grazie grazie professor Frascarelli grazie per essere stato con noi Nicola Ruggero allora il valore dell'olio pugliese è praticamente la metà se ho capito bene di quello toscano io spero di non essere frainteso ma io voglio continuare a essere pugliese non toscano nove euro della toscana su trentamina quintali perché dobbiamo chiamare l'assessore ci invitava a chiamare le cose trentamina quintali l'azienda mia l'azienda di Onofre le fanno da sole due due aziende di che cosa stiamo parlando è hobby tant'è che in toscana loro con meno sforzo guadagnano di più no non fanno nessuno sforzo l'abbandono in toscana è violento il tema è che il modello Puglia è un altro modello il professor Frascali l'ha detto puntualmente per questo io e tutti quelli che abbiamo sentito sono pieni di questa energia perché noi possiamo accontentare tutti i tipi di mercati facendo reddito perché io voglio fare a 5 euro l'olio ad Andria e non a 9 euro in toscana perché produco per 10 ho costi che sono di 5% l'appello che facevano tutti quelli che ci hanno sentito che sono tutti in positivo perché nessuna parte negativa del settore quindi c'hanno tutti entusiasmo e investimento e quando parlano di consorzio dicevano regia perché anche qua sul consorzio unico regionale non ha senso ha senso la regia unica per capire che cosa facciamo quello che diceva Nofrio qual è l'olio vero chi la deve fare questo sono le politiche perché quando qualcuno mi dice il modello vino anche qua lo dico in maniera non sono totalmente d'accordo perché quest'anno abbiamo buttato tanto vino il vino è piccolo è il modello di gestione dell'azienda dove ha permesso all'azienda Ruggero di modificare il suo assetto organizzativo in maniera automatica non essendo confuso sono politiche per l'azienda che va sul mercato e politiche per l'azienda di montagna il dato è quello dell'OP io colgo l'appello dell'assessore di vederci tutti insieme quelli che hanno le mani sporche in quel settore chi si chiamano De Carlo si chiama chiunque sia l'importante che sono operatori perché noi l'OP ce l'abbiamo non le abbiamo mai in Italia volute far funzionare perché prendiamo la parte olivicola come parte storico culturale il piccolino il medio l'OP è fondamentale per noi proprio perché abbiamo l'85% di piccoli produttori che vanno organizzati impensabile pensare alla politica commerciale perché c'è un quintale e mezzo di olio perché tanto parliamo che gli avanza dopo la molenda per la propria casa ma siccome abbiamo numeri enormi questi numeri enormi in Puglia creano le crisi la crisi è generata dalla mancata del sistema di questo 85% che ha bisogno di un appiglio oggi che si chiama il cooperativo O.P ma devono essere vere noi abbiamo 33-36 O.P quante sono vere ma perché come dice la Sessone ci spogliamo e la facciamo l'indagine chi ha i parametri economici ma non è per dire più bravo no ma perché se viene sul mercato deve avere la capacità finanziaria noi non possiamo più permetterci di non vedere lo chiediamo alla politica lo fanno anche noi quindi il messaggio che io voglio dare è che la Puglia deve fare la Puglia dobbiamo evitare che si allenti l'attenzione di quegli imprenditori perché quel 15% che sta anche perché si mollano loro è la fine bravo c'è entusiasmo l'olivicoltura è diversa è radicato l'abito di olivo è fondamentale nel sistema noi dobbiamo a questa gente a questi giovani a quel 15% dargli uno strumento di lealtà perché quello che viene chiesto da tutti è chi siamo perché andiamo alla fiera io e l'assessore io sono veramente di qualità come quelle che abbiamo visto e poi c'è a fianco chi bleffa se andiamo col marchio unico per questo è fallito in Puglia perché chi ha pensato il marchio unico l'ha pensato come marchio commerciale come una marchetta non come politica di sistema di qualità per arrivare da dentro allora su questo siamo tutti convinti quella parte buona l'altra parte viene scacciata in un minuto perché il mercato voglio dare solo un dato per dire l'entusiasmo che abbiamo otto oli premiati nel mondo su dieci otto su dieci hanno dentro la corattina quindi vuol dire che il mercato ormai quella famosa barzelletta che ci dicevano anche nelle televisioni che è la corattina da taglio è stato sfatato perché abbiamo imparato a migliorare è un settore giovane i risultati le persone c'è speranza c'è grande possibilità di portare quel miliardo di euro a due a tre quelle dieci milioni di giornate lavorative di qualificare non è un problema di costo oggi è il problema che voglio qualcuno chi è che me lo forma oggi un potatore io non l'ho ancora capito c'è un'azienda discreta tu l'hai capito non l'ho capito su queste tematiche nuove serve che ci incontriamo in regione e qualcuno che ci faccia una regia ha fatto una domanda ben precisa chi meglio della sesura può dare una risposta chi lo forma il potatore lo forma l'imprenditore che deve utilizzare tutti i canali anche qui io abbiamo visto dei dati come avete secondo me c'è un dato che viene fuori negativo c'è una percezione che è diversa dalla realtà poi approfondiremo in Puglia finanziamo l'ITS dell'agroalimentare che abbiamo l'anno scorso e quest'anno parlo della mia gestione ma lo conosco da sempre perché ho fatto le battaglie per averlo in Puglia per formarlo non si sono costituiti i corsi di formazione di quelle qualifiche che servono alle imprese cioè le imprese finanziato il corso l'ultimo corso ha determinato che l'82% dei corsisti è stato assunto dalle imprese per quelle qualifiche che volevano loro la potatura di cui si ha bisogno oggi non è la potatura del papà o che faceva il nonno quindi sono cambiati i sistemi di allevamento degli impianti poiché è così allora l'ITS va utilizzato altro centri di formazione non quelli a pagamento parlo di quelli pubblici i centri di ricerca il CREA quanti si approcciano a utilizzare le risorse impegnati buona parte dagli imprenditori privati che investono per avere nuove cultiva nuovi sistemi in un ambito di un'agricoltura di precisione molto più larga allora secondo me qui c'è la opportunità perché tutti siano stati propositivi e li ringrazio io spero che da tutti arrivi quel contributo a far capire che ci sono le risorse ci sono le opportunità perché la guerra era dove portiamo il corso o la sede dell'ITS ad Andria a Lecce presso la scuola agraria il tema non era quello perché il tema è il corso lo facciamo nel luogo dove serve a formare quella classe dirigente perché il capitale umano come quello dei flussi che ho detto a Roma è fondamentale perché se parliamo degli immigrati in termini di pregiudizio guardate molte aziende senza di loro non sarebbero in campo in Puglia con quella qualità allora proviamo ad essere un po' più seri e realistici e parliamo di questo per guardare al futuro poi le OP che hanno grandi opportunità siccome abbiamo pochi numeri e proprio sull'OCM la Puglia ha fatto una battaglia perché il governo uscente ha avuto un sottosegretario che ha firmato un decreto del quale il ministro era stato avvisato di non andare avanti perché c'erano delle difficoltà per il sistema pugliese e questo lo riproporremo al nuovo governo ma se qualcuno pensa e lo dico anche a chi ha responsabilità poi nel mondo sindacale e politico che la forzatura preelettorale faccia stare zitto l'assessore che ha messo per iscritto il non essere d'accordo motivandolo perché l'olio che voglio che si faccia in Puglia sia olio vero di qualità e che non si crei con la carta perché ho detto a tutti il prodotto si fa con la materia prima quindi quell'olio deve essere fatto con le olive e non con le fatturazioni o altro giro di carte perché su questo l'assessore pugliese non sarà in questo c'è un bell'atto un bell'atto d'accusa voglio darvi una bella notizia prima di andare in pubblicità il Salento sta ripartendo vediamo questo servizio nel 2019 avevano di fronte a sé tre strade divergenti mollare tutto e cambiare lavoro stare ad aspettare o ripartire Matteo ed Ettore Congedi titolari di Olearia Congedi in agro di Uggento hanno deciso di scommettere sull'ultima sicuramente la più rischiosa non vogliamo più parlare di Xilella dicono per noi non esiste più vogliamo andare oltre parliamo di rinascita quella stessa rinascita che due anni fa ha dato loro la forza e il coraggio di espiantare circa 2000 alberi di olivi secolari per reimpiantare le prime piante di olivo varietà favolosa tra i primi in Salento a crederci e la cosa che abbiamo scelto credendo nell'olivicoltura è stata quella di ripartire in maniera veloce e il più presto possibile insomma quanti ettari di terreno avete reimpiantato? allora ad oggi siamo intorno ai 20 ettari ed è previsto entro fine marzo il reimpianto di altri 25 ettari quindi andremo ad un totale di 43 44 ettari quanto avete investito? siamo intorno a un ordine di 600 mila euro come investimento un investimento necessario se non si voleva mandare in fumo una storica azienda che da quattro generazioni coltiva e trasforma l'oliva dando vita a un purissimo olio extravergine esportato in 20 paesi la prima produzione l'abbiamo fatta quest'anno e dai prossimi anni si andrà a pieno regime anche sugli altri campi nel frattempo per coprire le esigenze l'azienda acquista le olive da altre zone del barese e del brindisino il tutto in attesa nei prossimi anni di riacquistare la totale autonomia nella materia prima chi non ha voluto rimpiantare credo che oggi si stia trovando pentito perché ha perso diciamo tre anni di tempo inutile quando si poteva già iniziare a piantare e raccogliere i frutti insomma adesso ma cosa consigliano a chi oggi inizia a pensare al rimpianto assolutamente di piantare perché c'è bisogno di olio in Italia di olio di qualità di produzione italiana e l'unico modo per fare questo è quello di piantare il prima possibile uno dei regali più preziosi apprezzati da mettere sotto l'albero di Natale sicuramente l'olio d'oliva pugliese i nuovi comuni che costituiscono l'associazione cuore della Puglia ci hanno creduto tanto da farlo diventare dono per le famiglie bisognose aiutate dalle caritas diocesane così hanno acquistato circa 3000 euro di extravergine di qualità che sarà distribuito prima di Natale loro lo definiscono un piccolo gesto ma sperano che diventi virale perché dicono dall'associazione se acquistassimo tutti una bottiglia di olio da regalare a parenti o amici per Natale daremmo anche una grossa mano ad un settore in crisi messo in difficoltà dalla grande distribuzione a Casano delle Murge le bottiglie di olio sono state acquistate dall'oleificio sociale la campagna dona l'olio vuole essere intanto un modo per andare incontro a chi ha delle difficoltà ma poi anche un approccio emulativo per invogliare anche i nostri territori a fare dono nel periodo natalizio anche di una bottiglia di olio noi dobbiamo incentivare questi nostri prodotti sappiamo che gli olivicoltori soffrono un periodo di particolare crisi i costi sono lievitati notevolmente quindi anche queste iniziative queste campagne diciamo di sensibilizzazione sono utili ad incentivare e a sostenere la nostra agricoltura Cassano dalla settimana scorsa è gemellata con la città tedesca di Mühlenbecker Land una delegazione del comune pugliese ha omaggiato il sindaco tedesco il cui padre era originario di Cassano con i prodotti pugliesi tra cui spiccava proprio l'olio d'oliva molto molto apprezzato è un prodotto che ha delle caratteristiche uniche e poi diciamo per quelle latitudini in quella nazione è apprezzato in maniera particolare per Cassano l'olio d'oliva è un valore la politica dei piccoli passi tutti devono fare il proprio ognuno deve dare un piccolo contributo in questo caso bene ha fatto il comune di Cassano e tutti gli altri comuni dell'associazione a decidere e anche a proporre di regalare di regalare olio per Natale è un altro piccolo contributo se vogliamo anche tra l'altro un altro esempio arriva da Bitonto faccio vedere quest'altro servizio poi facciamo un ultimo giro di commenti Pasquale Petta ha 25 anni e lavora nella gelateria di famiglia a Bitonto da quando ne aveva 18 è diventato famoso per la sua ultima creazione gourmet il gelato all'olio d'oliva prodotto con l'oierola barese nota come cima di Bitonto sono quelle che lui stesso aiuta a raccogliere negli oliveti di famiglia in seguito alle diverse richieste di qualche cliente amici dopo la stagione splendida che abbiamo avuto quest'estate dopo aver postato qualche foto social nel momento della raccolta delle olive nei nostri fondi abbiamo diciamo incontrato la richiesta addirittura dei nostri clienti anche se fosse già se era già una nostra idea quella di produrre un gelato come questo ovviamente non è consigliabile l'abbinamento con cioccolato nocciola l'utilizzo è più particolare l'ideale si sposa bene nella gastronomia un gelato gastronomico a tutti gli effetti si sono divertiti parecchio infatti più di qualche amico che l'ha acquistato proprio in baschetta portandolo a casa e consumandolo a tavola addirittura tra il primo e il secondo abbinandolo a delle bruschette calde o nel sorbetto nell'intermezzo tra il primo e il secondo pasto c'è da divertirsi un po' la ricetta non è segreta la realizzazione sì gli ingredienti sono selezionatissimi e pochi l'etichetta è pulita abbiamo solo fibre acqua zucchero semolato e l'olio stesso che è il protagonista il futuro per il gelato all'olio d'oliva è tutto da disegnare nella nuova stagione estiva come il ritorno diciamo al banco di questo gelato e le risposte che darà per ora quelle che ha dato sono più che soddisfacenti l'assessore non era d'accordo col gelataio col cioccolato si sposa bene l'olio sì sì no ha fatto piacere però io avendo mangiato diciamo il cioccolato con l'olio in una importante kermesse di altissimo livello con chef stellati che hanno preparato diciamo io che sono uno che sa gustare i dolci diciamo oltre che mangiare bene tanta invidia visto che non hanno un esito sulla sua linea come assessore io devo fare anche l'ambasciatore in questo posso garantire e certificare avendolo mangiato che il cioccolato con l'olio si sposa bene e viene presentato alla grana allora quindi lo diamo come consiglio al gelataio di Vitonto allora facciamo un giro rapido per cercare di arrivare ad una conclusione soprattutto per prendere degli impegni possibilmente allora cominciamo da Onofrio Giuliani io sono molto contento di aver partecipato a questo incontro perché mi dà la possibilità anche di chiarire alcune idee a me stesso e quindi chiarendole a me stesso le voglio portare le voglio mettere sul tavolo e qui Nicola sarò velocissimo ha evocato quella che alcuni economisti chiamano la strada maestra governance e policy che non significano necessariamente governo e politiche significano chi fa cosa cioè chi decide o meglio chi governa il fenomeno e quali sono le politiche attraverso le quali si governa il fenomeno di questo abbiamo parlato se non sbaglio e questo è già un passo importantissimo perché il passo successivo ci dà la possibilità all'indomani del tavolo invocato dall'assessore di mettere appunto la terza la terza opzione che è quella dello sharing cioè condivisione allora se noi immaginiamo che vi sia una governance nella quale l'assessore fa la sua parte e chiama attorno al tavolo gli attori della filiera che vi siano delle politiche dedicate nelle quali il professor Nardone ne ha fatti specie ma indichino ovviamente dopo accordi presi con le parti indichino la strada maestra da seguire all'indomani di questo incontro ci sarà la possibilità di mettere in piedi in realtà realmente un sistema non produttivo un sistema come dire di condivisione regole certe da seguire che ci possano dare la possibilità di creare il famoso marchio perché noi fino ad oggi siamo vissuti dell'infinitamente piccolo per usare San Francesco d'Assisi ma l'infinitamente piccolo non funziona perché chi ci guarda conosce la Puglia non conosce né Cerignola né Bitonto né altri un cinese non sa manco dove stanno insomma ecco e questa è per me la strada maestra Presidente Ardone chi deve fare il primo passo? Noi dobbiamo fare come regione il nostro abbiamo in particolare nel mio ruolo il compito è quello di tradurre gli indirizzi della politica nella direzione voluta e fare in modo che la burocrazia pesi il meno possibile ossia che le idee si trasformino il più velocemente possibile in fatti concreti e appunto in politica in sostegno per le imprese noi abbiamo un compito ce ne sono di opportunità? beh noi il 31 marzo metteremo a bando abbiamo appena ricevuto dal ministero dal governo il compito di bandire di mettere a disposizione dei soldi per i frantoi abbiamo 30 milioni di euro per i frantoi quindi questo partirà a marzo e immediatamente dopo faremo un bando appunto per la ristrutturazione degli oliveti quindi uno cm virgolette oliveti quindi questa idea di andare in una direzione con un piano olivicolo regionale che possa tenere insieme le diverse anime che ricordava anche i frascarelli ossia la bottiglia d'olio a 50 euro e l'olio venduto a 4 euro insomma l'idea di poter mantenere queste anime perché non dimentichiamo che siamo la regione italiana che produce più olio e che noi siamo i principali fornitori dei grandi brand italiani che hanno olio pugliese quindi noi dobbiamo far convivere tutto e dobbiamo far convivere tutto in aziende che possano prosperare una volta era oro e in futuro? deve diventare un diamante l'energia che abbiamo il territorio il signore i doni che ci ha dato il signore devono trasformarsi in valore per tutta la Puglia sul modello se riusciamo come diceva il mio collega Onofre Giuliani e l'assessore prima di me a mettere le energie migliori intorno a un percorso non servono soldi la politica della spesa pubblica è una politica che ha rovinato i sistemi economici a noi serve l'indirizzo i programmi e capire con nome e cognome chi fa che cosa prima l'assessore si faceva riferimento a costi di formazione e ricerca spesso queste cose restano non per cattiva volontà per pigrizia per mancarsi tempo in ambiente in scatole separate è un pazzo che non si compone se chiamiamo gli attori ridisegniamo la mappa che il grande errore non me ne voglia nessuno sono dieci anni che gli operatori veri della filiera dell'olio non riescono a incontrarsi in regione Puglia dieci anni in un settore che diciamo tutti è strategico non può essere non può mai più accadere una cosa del genere perché il mondo ci guarda e io che sono profondo conoscitore del sistema olivicolo planetario dico non c'è nessuna altra regione come la Puglia che può giocare la partita ed è una partita solo a grande valore aggiunto gli altri sistemi economici anche quelli che noi prendiamo a modello parlo della Spagna hanno il fiato corto sono destinati a implodere per motivazioni sociali economiche e ambientali oltre il fatto che non hanno di cui come lo champagne per la Francia riconosciamo lo champagne nel mondo l'olio e la Puglia se perdiamo ancora un chilo di produzione perdiamo questo primato ma avere questo primato significa avere opportunità serie le abbiamo tutti gli strumenti la cooperazione è bugia che la gente la voleva le cooperative ci sono in tutta la Puglia poi diceva bene l'assessore l'abbiamo messo sui singoli personaggi ma su questo non è possibile che la Puglia non dia regole non vada a controllare i bilanci se sono vere cooperative le OP ce le abbiamo allora se gestiamo i ruoli ognuno si assume le responsabilità chi vuole giocare questa partita anche perché non è che siamo in un regime sovietico può cogliere l'opportunità e io credo creare per la Puglia ma velocemente opportunità quegli amici del Salento che sono ripartiti non hanno aspettato la legione sono ripartiti e quest'anno hanno già venduto le prime olive hanno venduto le olive a 100 euro se le sono scambiate tra loro un fenomeno bellissimo che rappresenta la straordinaria energia di questo settore Assessore il calcio d'inizio aspetta lei no dobbiamo continuare il lavoro fatto vi ho spiegato alcune cose che stavano all'interno della programmazione e quindi dei percorsi che stavamo facendo per esempio parlare della PAC quando non c'era lo schema olivicolo e la battaglia della Puglia ha portato a quello io ho fatto un grande lavoro in Puglia governato dall'assessorato poi la mia proposta è stata supportata da tutti e noi abbiamo portato il risultato ho già detto che a gennaio convocherò tutti quanti perché avremo chiari diciamo i percorsi le norme quello che abbiamo contestato perché capiremo con il nuovo governo quali sono anche le azioni che a livello nazionale ed europeo perché siamo una regione dello Stato membro siamo lo Stato membro che parla in Europa oltre alla sovranità alimentare il nostro governo deve difendere alcune azioni come quella di controllare perché non ne abbiamo parlato ma ne parlo io che sono sempre il bastian contrario tutti gli oli che arrivano e le qualità e le proprietà perché la battaglia che ho fatto sul latte attaccato dall'antitrust e dalle regioni del nord oggi il protocollo pugliese è stato preso a riferimento quindi siccome io non mi sento secondo a nessuno sono molto umile però non consento a nessuno di pulirsi i piedi addosso al mio lavoro quello della mia regione perché la devo rappresentare con onestà e dignità questo è il tema a gennaio noi faremo questa operazione e valuteremo insieme le azioni perché ogni imprenditore non si senta solo e tutti convergano verso una sostenibilità del sistema pugliese e dentro c'è quella ambientale quella economica e di prospettiva dove ci chiariamo e vediamo chi fa cosa chi mette cosa così a distanza di tempo noi possiamo controllare chi non ha fatto cosa perché nel principio di responsabilizzazione penso che questa sia l'apertura più importante allora facciamo che ci rivediamo sono molto fiducioso facciamo che ci rivediamo a febbraio se entro gennaio ha definito la data dell'incontro noi a febbraio vediamo se la partita è cominciata e poi ci rivedremo magari quando finisce per vedere il risultato ma così diamo conto ai nostri telespettatori e ai cittadini che non diciamo chiacchiere penso che sia stata anche produttiva per ognuno di noi perché molte cose ce le siamo dette perché ognuno sapeva il pezzo suo ma condividerle farle arrivare secondo me è anche un'iniezione di fiducia a quegli imprenditori che da domani sanno che hanno un sistema scolastico quello dell'ITS dell'agroalimentare quello della ricerca e quello dell'università che fa un lavoro per loro e viene utilizzato poco utilizzato nel senso positivo del termine perché si rispettano le eccellenze e le qualifiche che la Puglia ha grazie grazie a tutti voi per aver partecipato alla nostra televisione e grazie naturalmente a voi per averci seguito buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti